La Voce al Sindaco, rubrica settimanale dell'attestata giornalistica di Radio Dimensione Musica. L'intervista del martedì al Sindaco di Pozzallo. Ventiquattresimo appuntamento radiofonico settimanale con la Voce al Sindaco. La rubrica di approfondimento dell'attestata giornalistica di Radio Dimensione Musica. Il primo cittadino pozzallese, Roberto Ammatuna, discute al microfono del nostro giornalista Piero Giunta sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. Il Sindaco, Roberto Ammatuna, oltre a fare il preciso e puntuale punto informativo settimanale sulla situazione del Covid-19 a Pozzallo, riflette sull'incontro con la CNA territoriale e provinciale dove si è affrontato il tema del rilancio del porto di Pozzallo sfruttando il recovery plan. Il Sindaco Ammatuna parla al nostro microfono dell'affidamento dell'incarico di progettazione per la realizzazione del PTA a Pozzallo. Ascoltiamo Roberto Ammatuna. Sindaco Ammatuna, apriamo la ventiquattresima nostra chiacchierata radiofonica, la voce al Sindaco sul Radio Dimensione Musica che apre la settimana politica Pozzallese con la prima domanda sugli aggiornamenti dei dati Covid a Pozzallo, dati che non sono stabili e che sono in leggero aumento. In dato di erna noi abbiamo 70 casi positivi che sono un numero abbastanza importante, non testa ancora preoccupazioni, qualcuno parla secondo me non conoscendo la legge di zona rossa, si va in zona rossa quanto in una città di quasi 20.000 abitanti come quella di Pozzallo si debbono registrare nell'ultima settimana almeno 50 casi, 48-49. Non siamo a questi livelli e nemmeno il numero desta grandissima preoccupazione. Quello che a me mi lascia molto perplesso e quindi anche preoccupato è questa fase ascendente dei casi positivi, questa curva epidemica che giorno dopo giorno si innalza sempre di più e uno stilicidio continuo che porta sempre ad aumentare questi casi positivi. Io ritengo che questo sia il frutto di alcune cose accadute da condannare certamente nelle ultime festività pasquali e ho notato soprattutto in questi ultimi giorni un allentamento delle misure anti-covid nei miei concittadini o in una piccolissima parte ma bastano pochissime unità per fare aumentare il contagio. Quindi c'è un allentamento nelle norme di comportamento che desta grandissima preoccupazione. Dobbiamo fare in modo di non allentare questa tensione continua. L'ho detto e ripetuto in altre occasioni. Pozzallo è una città a rischio, Pozzallo è una città aperta, Pozzallo è una città di marittimi di tanti giovani, di centinaia e centinaia di giovani impegnati nella canteristica che lavorano nelle imprese, nelle multinazionali in tutto il mondo. Quindi da Pozzallo si arriva e si parte. Tutto questo può determinare i maggiori pericoli per il contagio. Dobbiamo stringere i denti, dobbiamo invertire questa rotta, dobbiamo pensare prima di tutto ad appiattire questa curva che aumenta sempre di più per poi farla ridiscendere pian piano. È importante per la nostra salute, per la nostra vita, ma anche è importante per fare ripartire le attività economiche così duramente colpite da mese e mese di chiusura che hanno portato al fallimento di alcune attività commerciali. Un'unità come Pozzallo, che basa tutto sul turismo, sulle attività commerciali, quindi gran parte della propria economia, non può permettersi assolutamente questo lusso. Ecco, io approfitto dell'occasione che voi mi date, della vostra emittente, per lanciare un appello ai miei concittadini. Pensiamo prima di tutto alla nostra salute e poi successivamente pensiamo anche alle attività economiche. Le due cose debbono camminare di pari passo. Sindaco, nei giorni scorsi lei ha incontrato la CNA territoriale e provinciale. Naturalmente avete parlato del rilancio del porto di Pozzallo, sfruttando il recovery plan. Lei dice che il porto di Pozzallo è una struttura al servizio dell'intero comprensorio sudorientale dell'isola e deve farne parte. Ecco, Sindaco, entriamo nel merito. Ci spieghi cosa vuole dire? Guarda, il recovery found è una grandissima occasione per l'Italia. È una sorta di piano Marshall che fu il piano di questo grande americano che favorì lo sviluppo del dopoguerra della Germania e dell'Italia che erano state massacrate e distrutte dal secondo conflitto mondiale. Io ritengo che le somme che noi abbiamo disponibili da qui a 3-4 anni sono forse superiori a quelle somme che furono messe a disposizione allora. La Comunità europea ha cercato di sostenere la ripresa economica dell'Italia, che è il maggiore usufruitore di questi aiuti. a due condizioni. Primo, che si limitassero al massimo, che si equilibrassero un po' lo sviluppo del sud e del nord dell'Italia e che si semplificassero le procedure amministrative per la realizzazione di questi obiettivi e di questi progetti. Io ho cercato di seguire sulla stampa, anche se c'è stato un po' un atteggiamento ermetico da parte delle autorità del Governo. Ho cercato di seguire sulla stampa se questi due obiettivi il Governo italiano li avesse eseguiti. Io sono rimasto perplesso per quello che ho potuto leggere, perché per quanto riguarda le procedure amministrative non si fa assolutamente cenno. Per quanto riguarda l'eliminazione del gap tra il nord e il sud dell'Italia, mi pare che non si siano fatte dei grandi passi in avanti. L'Italia e soprattutto la Sicilia hanno la possibilità di essere un grande volano di sviluppo per l'Italia e per l'Europa. L'unica possibilità che si ha è quella dei traffici marittimi e quindi quello dello sviluppo della portualità. A me pare, per quello che ho potuto leggere, che in questo progetto di sviluppo, di impegno di queste somme così importanti, sulla portualità ci sia ben poco. Ci sono delle somme consistenti per il porto di Trieste, per il porto di Genova, qualche cosa per il porto di Palermo e qualche brisciolo anche per il porto di Catania. Ci sono anche degli obiettivi che si prefiggono lo sviluppo della rete ferroviaria tra Catania e Palermo e anche Messina. E poi mi pare che non c'è assolutamente nulla. Non c'è nulla per il ponte, ad esempio. Quindi l'alta velocità non può assolutamente arrivare in Sicilia e non si può costruire quella intermodalità che è indispensabile e che possono permettere alla Sicilia un grande sviluppo economico. Ma ancora una volta quelle poche briciole se li vanno a dividere quelle realtà e quelle città che fanno parte del triangolo Messina, Catania e Palermo. La Sicilia sudorientale è completamente fuori. Io ho cercato di sollecitare la nostra classe politica di maggioranza e di opposizione a battere un colpo, a fare in modo che la parte più produttiva della Sicilia, e io direi anche del Mezzogiorno, che il sud-este avesse la possibilità di avere un grande sviluppo economico. Noi facciamo parte di quel corridoio europeo, uno dei sei corridoi europei più importanti, che sarebbe il corridoio Helsinki-Malta, che si ferma a Napoli, che nella migliore delle ipotesi può arrivare a Palermo. E non capisco e non comprendo perché questo corridoio, attraversando lo stretto di Messina, non possa arrivare fino all'estremità sud della Sicilia e non capisco nemmeno perché questo corridoio si debba fermare a Napoli per poi andare a Taranto oppure deve andare a Palermo, facendo una sorta di Iuppesolone al contrario. Quindi avevo chiesto un maggior impegno della nostra deputazione per fare in modo che si destinassero delle somme consistenti al porto di Pozzallo, ma non nell'interesse di Pozzallo, ma nell'interesse di tutta la Sicilia sudorientale. Noi abbiamo tutte le carte regola, abbiamo un progetto di 140 milioni di euro che è quasi definitivo e un altro progetto di 40 milioni di euro, 50 milioni di euro che è quasi esecutivo, sarà esecutivo nel giro di qualche settimana. Ecco, non capisco e non comprendo questo mancato impegno della nostra classe politica dirigente che sta colpendo ancora una volta la Sicilia sudorientale, quindi Pozzallo, la provincia di Ragusa in generale. Stiamo perdendo una grande occasione storica. Io non mi stancherò mai di ripeterlo, speriamo di arrivare a qualcosa di concreto. L'ultima domanda che le voglio fare è questa, Sindaco. È notizia di queste ore che è stato affidato l'incarico di progettazione per la realizzazione del PTA a Pozzallo, e cioè il Presidio Territoriale di Assistenza. Direi che è una buona notizia che arriva in un momento difficile come questo. È stato affidato l'incarico di progettazione di un'opera importante, di una struttura sanitaria per un importo di 2 milioni e 400 mila euro, che sono dei fondi del famoso articolo, ex articolo 20 della legge 67 del 1988, che sono delle somme che sono destinate all'ammodernamento delle strutture esistenti, sempre sanitarie, e alla costruzione di nuove strutture. Fu un impegno che io assunzi, purtroppo sono passati quasi dieci anni, quando ero parlamentare alla Regione Sicilia, insieme al segretario particolare dell'allora assessore russo, che guarda caso, è il direttore generale dell'ASPE di Ragusa, architetto Aliquo. Questo accordo di programma sulla base di quegli impegni è stato firmato un anno e mezzo fa, un anno fa. Quindi noi di fatto abbiamo 2 milioni e 400 mila euro. Stazione Appaltante e l'ASPE. Stazione Appaltante e l'ASPE. Noi in provincia di Ragusa abbiamo avuto finanziate due opere pubbliche. Uno è il PTA di Comiso per 1 milione e 100 mila euro e uno è il PTA di Pozzallo, un'altra opera è il PTA di Pozzallo per 2 milioni e 400 mila euro. Mi hanno informato questa mattina che è pronto già l'affidamento per uno studio di ingegneria di Ragusa che nel giro di pochi mesi sottoporrà alla stazione Appaltante il progetto per la realizzazione dell'opera. Un'opera importante. In questa fase di pandemia noi abbiamo visto quante debole siano le nostre strutture sanitarie, ma è un'opera strategicamente importante perché si colloca in un'area che è degradata, o meglio lo era. Noi lì in via Follerò abbiamo già realizzato un campo di calcio in erba sintetica. la rimanente parte sarà realizzata questa struttura che si colloca tra la protezione civile, la zona industriale e il porto di Pozzallo, quindi una struttura strategica in cui debbono venire allocati tutti i servizi sanitari della città, della medicina di base, della medicina di emergenza, quindi all'interno ci sarà il presidio territoriale di emergenza e tutta la medicina specialistica. Quindi un'opera questa che andrà ad arredare bene una delle periferie più importanti della nostra città e che svolgerà certamente dal punto di vista sanitario una funzione importantissima nei prossimi anni. Grazie Sindaco. Con la voce al Sindaco diamo appuntamento a martedì prossimo. Ringrazio Roberto Amatuna, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica. Ringrazio Roberto Amatuna.